eccoci qua buonasera e benvenuti dopo un po insomma una nuova diretta aspettiamo un attimo che si collegano un po di persone e poi vi inizio a raccontare qualcosa di cosa ho fatto questo weekend nella manica perché alcuni di voi me l'hanno chiesto se si collega qualcuno ecco qua inizia la prima persona a collegarsi martina buonasera buonasera a tutti grazie che ci siete allora buonasera a tutti a sabrina donatella chiara federica rosita gra e insomma tutti quelli che si collegano in questo momento allora di cosa parliamo stasera intanto aspettiamo qualche minuto che chiaramente si collegano altre persone in attesa insomma l'argomento mi rendo conto che può essere un po poco interessante rispetto ad altri però siccome alcune persone mi hanno chiesto cosa ho fatto questo weekend allora volevo raccontarvi un po cosa è successo che cosa abbiamo fatto e insomma ho mandato il weekend perché alcuni hanno visto le dirette alcuni hanno visto le foto di questo weekend però volevo un po raccontarvi diciamo in maniera un po più specifica cosa ho fatto e cosa abbiamo fatto come team cosa ho fatto io come insomma specialista e cognata ben arrivata tanto saluto manuela roberta ma chiara elena ma non ho capito come si pronuncia perdonami ma è complicatissima ancora due tre minuti poi diciamo inizio un po a raccontare meglio l'argomento di stasera perché se no chiaramente mi annoiate anche sicuramente non essendo un argomento che tira come magari le fiamme gemelle le anime gemelle l'ipnosi o altro chiaramente stasera ci sono anche un po meno partecipanti ma vabbè così resto era un po che non facevo delle dirette per cui allora stasera intanto vi spiego una cosa parleremo un po di come e di come abbiamo fatto la preparazione per la manica di che cosa ho fatto io lo specifico per preparare un atleta ma in realtà l'argomento è interessante perché mettiamola così come si fa a realizzare un qualcosa una performance in condizioni proprio non semplici diciamo estreme nel caso della manica perché chiaramente l'atleta da fare delle diciamo deve deve fare delle esperienze difficili impegnative però anche se noi non siamo atleti un saluto al caro michele intanto anche stefano grandissimo artista anche se non siamo gli atleti può essere utile comunque sapere come realizzare una performance come come riuscire ad avere un risultato straordinario come ci si allena come si prepara qui magari questa cosa che vi racconto può servirvi un po per rendervi conto di come si può lavorare cioè perché diciamo che questa è una delle cose che io faccio per coaching che non è solo ipnologo come numerologo come cartomante come esperto di fioribac però in realtà sono anche un coach professionista ho fatto una scuola di coaching del 2012 però in realtà avevo già delle competenze ben affidate che poi ho ulteriormente diciamo sviluppato facendo una scuola di coaching professionistico allora vi racconto un po insomma com'è andata cosa abbiamo fatto e soprattutto anche com'è andata questa cosa perché molti di voi non sanno perché io faccio questo tipo di lavoro ciao giovanni giovanni è un collega che anche lui si occupa di lavorare con gli sportivi ciao monica buonasera a te buonasera michele allora praticamente la storia è questa sentite un po come sapete appunto sono ipnologo perché non mi conosce sono giù mi fascina sono ipnologo cartomante un parapsicologo numerologo un esperto di fioribac come detto prima sono anche un preparatore mentale per sportivi anche se questo tipo di lavoro è relativamente in realtà recente perché poco più di un anno che lo faccio anche se in realtà le competenze per farlo le avevo già da diverso tempo giungo semplicemente ero già stata occasione perché diciamo ho dovuto rompere un limite mentale mio pensavo di non avere molto a fare col mondo dello sport dato che nel coaching abbiamo principalmente ciao martina abbiamo principalmente tre aree di intervento cioè che l'area corporate o enterprise poi ognuno ha una nomenclatura però il concetto è lo stesso c'è il lavoro quando del coaching con le aziende del coach con le aziende poi abbiamo life coaching praticamente il lavoro con le persone relativamente a situazioni legate alle relazioni o magari aree di vita che non siano lavorative fondamentalmente ma più relazionali diciamo poi abbiamo lo sport coaching cioè l'applicazione delle tecniche di coaching dello sport siccome io per vari per formazione personale anche vita personale ho avuto più a che fare in vita mia con aziende e con persone per cui mi ero concentrato più che altro su life e sul corporate coaching e non su quello sportivo per cui questa cosa invece è nata l'anno scorso quando mio collega perché anche lui è il coach preparatore mentale della oriana che tra l'altro saluto perché non credo sia seguendo la diretta ma so che la vedrà mi ha chiesto dato che avevamo fatto molti anni fa la stessa scuola di coaching insieme di diciamo accompagnarlo in un progetto per cui abbiamo iniziato a lavorare insieme per preparare delle giovani promesse del luoto perché andrea un grandissimo anzi è stato ma lo diventerà ancora quando realizzeremo l'impresa della traversata la manica è stato un grandissimo luotatore che insomma vinto record di titoli consecutivi su delfino con lo stile delfino in italia e anche il gareggiato dell'olimpiadi di atlanta nel 96 non ha vinto però insomma si è avuto un buon piazzamento per cui insomma un atleta la persa fuori dal comune quando questo mio collega mi ha contattato per accompagnarlo in un progetto in cui abbiamo preso delle giovani promesse del luoto le abbiamo allenate e diciamo che ci sono stati risultati interessanti uno in particolare ha vinto una medaglia d'oro in una gara parecchio importante che mi pare che siano insomma i campionati italiani per cui dopo questo lavoro comunque io e andrea abbiamo iniziato a collaborare per cui mi sono trovato a utilizzare le cose che già sapevo che utilizzavo per aiutare le persone o nelle aziende con gli sportivi chiaramente essendo un ambito diverso l'ho dovuto avere una fase di adattamento però mi ci sono trovato molto bene molto velocemente anzi addirittura ho scoperto questa cosa mi piace proprio per cui ho continuato anche quest'anno anche se meno rispetto all'anno scorso a lavorare con alcuni gli atleti però diciamo ci è venuto un'idea interessante cioè più alto ad andrea poi è stata una proposta in cui sono entrato dentro cioè quella di fare la traversata della manica ma non solo fare la traversata della manica che è una cosa che è già stata fatta chiaramente da tante persone ma puntando la sticella un po più in alto di fare il record italiano di traversata della manica perché l'attuale record mi pare che è di 11 ore e mezza una cosa di questo tipo mentre invece noi puntiamo sotto le 10 ore che insomma è un grande risultato per quelli che non sanno cos'è la traversata della manica giorni fa ho scritto un post che magari molti di voi hanno letto altri magari non l'hanno letta però la traversata della manica è l'equivalente della scalata dell'everest per un nuotatore perché è una prova difficilissima perché tutto ci si può morire come ho già detto per cui è una cosa non semplice perché la preparazione di questo tipo deve tenere conto in maniera schietta e chiara che si può morire per cui quando uno si prepara sa che è un'impresa estrema perché infatti rientra proprio nella classificazione come sport estremo per cui bisogna avere intanto quel tipo di formamenti cioè sapere che facendo questa cosa uno può anche non tornare a casa dai genitori, della moglie, dei figli, dei amici insomma una volta che si fa questa decisione bisogna metterci tutto in senso proprio completo del termine poi oltre a morirci ciao Claudia ben arrivata oltre a rischiare insomma e saluto anche tutti gli altri Daniela, Stefano, Stefani anzi Germano insomma non saluto tutti però insomma grazie che ci siete mi seguite dicevo per tutto ci si può morire in più viene fatta una traversata a nuoto che con lo stretto che collega del canale anzi che collega la Francia e l'Inghilterra che appunto è lo stretto della Manica è il canale della Manica viene fatto a nuoto al freddo perché l'acqua ha una temperatura di circa 16 gradi più o meno forse anche qualcosina di meno diciamo verso fine agosto dipende poi chiaramente da quanto caldo fa in quel periodo insomma già la temperatura è tanto ma in più aggiungiamo che oltre alla temperatura freddissima dell'acqua c'è anche la distanza per cui sono 36 km mi pare per cui questo tipo di attraversata di attraversata a nuoto proprio perché l'acqua è molto fredda e l'attraversata è molto lunga rischia di essere un'impresa estrema infatti ci vuole una preparazione che dura da un bel po' di tempo proprio per essere sicuri di riuscire in qualche modo non si può lasciare chiaramente niente a caso perché se non si ingestisce il freddo il rischio di andare in ipotermia e poi anche di rimetterci la penna è un attimo se non si ingestisce la lunga distanza chiaramente ci si ritrova magari a metà attraversata che si è usata di tutte le energie in più bisogna tenere conto di tante altre variabili cioè l'alimentazione perché chiaramente se state facendo una attraversata non potete fermarvi a mangiare la pasta asciutta da bacchio per cui quello è un altro problema poi nel senso di spaisamento che è terribile soprattutto per un nuotatore classico che è abituato a nuotare nelle piscine con i tornanti i separatori cioè i divisori il tabellone e tanti altri punti di riferimento trovandosi in mare aperto non ne ha nessuno a parte la barca cioè non c'è proprio niente che gli faccia capire dov'è cosa sta facendo e non c'è neanche un riferimento temporale apparentemente perché appunto non essendo città bellone non sa che cosa c'è quanto e quante ore mancano considerando che poi in una durata lunghissima si parla appunto abbiamo detto di meno di 10 ore però comunque in meno di 10 ore a nuoto sono tante il senso del tempo viene completamente sballato e stare 10 ore in acqua vuol dire non poter fare niente mentre stare 10 ore in acqua cioè ragazzi tanto di che appello qui lo fai io sicuramente non riuscirei o non lo so magari un giorno proverò e farò anche questa follia però è un'impresa impegnativa poi aggiungiamoci le onde che possono essere correnti marine che possono essere improvvise forti o deboli calde o fredde per cui potrebbero inserire delle ulteriori variabili che rendono molto difficile la cosa e come è capitato nella prova che abbiamo fatto questo weekend di cui tra poco vi parlo c'erano anche il vento perché chiaramente un vento gelito forte contrario rende ogni bracciata se la gente c'è già sulla nave già come siamo anche in domanda che cosa dici pensi che non sono attrezzati per il sabbataggio per cui dicevo questo tipo di imprese è tosta perché c'è tutta una serie di cose poi il vento poi le condizioni atmosferiche perché potrebbe anche esserci una tempesta in caso di tempesta in quella settimana perché la prova l'ha attraversata la manica dà una durata di circa una settimana non perché ci vuole una settimana per farla ma perché in quella settimana si prenota diciamo uno slot con un'associazione tra le varie che gestiscono perché ci sono delle associazioni che lavorano chiaramente con i governi inglesi e francesi per poter appunto gestire l'attraversata perché ogni anno ci sono un gran numero di persone che vogliono fare l'attraversata cioè ci provano poi che ci riescano un altro discorso però c'è un gran numero di persone che prova a fare l'attraversata della manica magari cercando anche di battere dei record per entrare insomma della storia e queste associazioni si occupano di gestire io chiaramente di queste cose quando Andrea mi ha chiesto di farli da preparatore mentale con l'ipnosi soprattutto io non sapevo niente cioè per me è stato proprio l'introduzione di un mondo nuovo quindi ho dovuto imparare tutto per esempio quelle associazioni ci sono di che cosa si occupano aggiungo anche che dato che parlo e che mi conosce lo sa bene inglese Andrea mi ha chiesto di gestire anche tutto l'aspetto burocratico quindi anche quello ho dovuto una cosa che ho mai fatto per cui prenotare magari la barca da affittare perché chiaramente mentre lui farà il farà insomma la traversata a nuoto noi lo seguiremo sulla barca per cui ho dovuto trovare la barca ho dovuto affittarla e anche lì non credete che sia così semplice infatti diciamo vi racconto un po' meglio com'è stata la storia sostanzialmente e vi spiego anche un po' come funziona il discorso della traversata sostanzialmente Andrea mi ha chiesto di prepararlo come preparatore mentale quando mi hai fatto questa richiesta devo dire da una parte ero un po' preoccupato perché non avendo nessuna esperienza di preparazione di sportivi sport estremi perché al massimo preparando i sportivi per delle gare magari delle gare anche importanti ma un conto una gara in cui al massimo perdi la gara e sti cavoli un conto una traversata estrema dove perdi la vita cioè anche lì mi sono sentito una grossa responsabilità tant'è vero che ho detto insomma al mio collega Androniana gli ho detto Andrea ma sei sicuro che lo vuoi fare ma sei sicuro ma sei sicuro gliel'ho detto fin dal primo momento perché perché fondamentalmente cioè Andrea moglie e figlia piccola appunto tra l'altro ero piccolissima non sono piccola per cui cioè di fronte all'eventualità concreta di rimetterci la pellagra e come diciamo sono preparatore mentale poi mi spiego anche cosa consiste in cosa consiste questo e assicurarmi che lui abbia la mentalità adatta per cui la prima cosa che devo cercare di fare paradossalmente è fare il demotivatore cioè fargli passare la voglia di farlo per cui ho detto ma sei sicuro ma sei sicuro ma sei sicuro guarda che ci puoi morire guarda che succede se tua moglie diventa vedo e tua figlia orfana ma sei sicuro ma sei consapevole che ci puoi rimettere la penne allora è stato irammovibile cioè il suo desiderio di realizzare questo obiettivo questo grande obiettivo perché veramente un grande obiettivo è stato talmente forte che alla fine non ci sono non ci sono stati scusate il termine cazzi cioè ha voluto semplicemente farlo punto cioè l'ho visto proprio convinto allora il momento in cui ho colto dal suo sguardo che era fermamente deciso a realizzare questa cosa ho detto ok va bene facciamolo cavolo e da lì è partito tutto l'iter quindi ho iniziato a studiarmi le varie procedure quindi chi gestisce questo tipo di traversate come funziona il tutto i costi tutte le varie regole le cose che si possono fare le cose che non si possono fare ad esempio non si può toccare la barca cioè il nuotatore non può toccare la barca per dirne una tra le varie non può avere un costume intero perché comunque il costume proteggerebbe dal freddo in realtà è una prova di resistenza al freddo per cui questa cosa non si può fare cioè mi sono dovuto studiare tutta una serie di cose che appunto non si potevano fare durante la traversata della manica per cui chiaramente è stata anche una sfida per me perché tra l'altro in alcuni termini sono molto specifici sia nel settore del nuoto ma anche in altre cose che insomma non sono neanche comuni per il nuoto perché insomma le condizioni di lavoro sono un po' anomale rispetto a una gara di nuoto per cui ho dovuto imparare tutta una serie di cose di cui non avevo assolutamente idea mi si è aperto un mondo perché comunque ho iniziato a cercare anche di capire di fronte a dei problemi concreti come si potesse fare in che senso adesso vi spiego cioè posto che l'obiettivo è fare l'attraversata della manica e posto che c'è tutta una serie di problemi da lì un po' in questo diciamo la mia figura aiuta si differenzia almeno per come sono fatto io da altri tipi di figure come uno psicologo dello sport ad esempio e in realtà anche un mental coach canonico perché per esempio io sono principalmente anche ipnologo per cui ho questa competenza me la metto in gioco non tutti i colleghi mental coach poi sono anche ipnologi o magari conoscono degli elementi basilari dell'ipnosi però non sanno fare diciamo le non sanno utilizzare gli utilizzi più spinti o più avanzati per cui come vi posso dire sono un po' una figura anomala anche in questo senso più che anomala particolare ma chi mi conosce insomma lo sa che ho vari interessi vari campi ho fatto varie professioni insomma tornando a noi mi ha chiesto di fare questa impresa ho iniziato a informarmi mi si è aperto un mondo poi ho iniziato a studiarmi un po' di cose parecchie cose in realtà regolamenti pure c'è stato un macello per la parte più burocratica è un qualcosa di veramente allucinante e anche lì in realtà la sfida non era solo per Andrea ma è stata anche per me prima di tutto perché appunto è una cosa che non ho mai fatto e poi perché come vi posso dire cioè uno si mette bello in testa e vuole fare l'attraversata della manica dice ok adesso scrivo all'associazione ti rispondono oppure scrivo a quelli che affittano la barca perché barcaioli cioè i guidatori delle barca li devi contattare tu chiaramente loro magari ti rispondono subito sono gentili disponibili eccetera non è proprio così cioè in realtà quello che ho scoperto che le associazioni che gestiscono quella cosa 9 volte su 10 che gli iscrivono non ti rispondono i barcaioli alcuni che ho contattato fra i tanti non hanno mai per cui hanno nemmeno ormai letto le mie mail zero cioè neanche a dire ti rispondono con una riga no non l'hanno proprio lette per cui ho dovuto chiedere richiedere scrivere riscrivere prendere accordi chiedere valutazioni sui prezzi è stata una cosa allucidante tra l'altro ci sono state pure alcune disavventure in etinere ad esempio quando ho fatto il primo giorno di richieste tutti i barcaioli mi hanno detto che per il 2018 e addirittura anche per gli anni successivi perché alcuni di loro prendono prenotazioni anche per gli anni successivi erano già strapieni per cui siccome io andrea ci eravamo dati come obiettivo di realizzare la traversata della Manica nel 2018 praticamente ormai eravamo proiettati che si faceva il 2019 per cui anche lì questa cosa che ha dispiaciuto tra l'altro molto Andrea perché lui voleva farlo entro quest'anno e non entro l'anno prossimo perché chiaramente questo avrebbe eseritato altri progetti che abbiamo insieme e di cui vi parlerò magari a tempo debito perché adesso è un po' presto però un progetto che chiaramente coinvolgono anche a me però il problema di fondo è che come ho detto non c'erano posti per il 2018 per cui anche quello è stato un problema per cui c'eravamo inizialmente accordati per una attraversata da fare il 2019 poi però alla fine diciamo facendo un po' di magheggi nel senso che contattando contattando c'è stato un barcaiolo che mi ha detto guarda nel dicembre a volte c'è gente che mi dà le sole perché chiaramente l'idea è che se voi volete fare attraversate dalla manica scrivete un'email per prenotare la barca e ve la danno non funziona proprio così bisogna dare degli acconti puoi fare prima ancora la prenotazione eccetera allora dicembre di quest'anno cioè dell'anno scorso scusate 2017 uno dei barcaioli mi aveva detto di contattarlo appunto a dicembre perché se qualcuno dava forfè perché spesso capita che insomma le persone che vogliono fare attraversata poi ci ripensano buonasera Sonia buonasera Milena tutti gli altri barilisi eccetera siccome ci sono state delle defezioni perché magari qualcuno ci ha pensato e ha detto cavolo è un po' pericoloso fare attraversata ma non lo voglio fare più per cui si era liberato un paio di posti mi pare si un paio di posti mi aveva dato un paio di date che casualmente tra l'altro corrispondevano a delle date buone per Andrea perché chiaramente Andrea lavorando facendo insomma sia l'allenatore che il preparatore attetico poi in realtà è anche adesso è stato anche gestendo un centro polisportivo della Jesse Sport di Milano se ricordo bene per cui non è che ha sempre le date disponibili anche durante l'estate perché comunque ci sono gare ci sono riunioni c'è tutta una serie di cose insomma il caso non caso vuole che becchiamo una data disponibile per il 2018 per agosto mettiamo un fine metà agosto che è una data perfetta rispetto agli impegni di Andrea anche miei perché pure io ho diverse cose insomma che sto facendo come sapete avete visto un po' sulle mie pagine di Facebook il mio profilo eccetera per cui insomma avendo trovato una data per il 2018 abbiamo festeggiato per il primo piccolo miracolo grazie sì abbastanza per il primo piccolo miracolo di riuscire a farlo nel 2018 quando ormai ci avevamo quasi rinunciato però Andrea mi ha detto che ha scelto me anche per gestire la parte burocratica perché prima aveva assediato un'altra persona ma non aveva ottenuto risultati perché mi conosce caratterialmente sa che io sono uno tenace quando mi metto in testa di fare una cosa non mi schiodo così facilmente insomma chi mi conosce lo sa mi dicono sempre se sono testato con un muro sono imparato a fare di questo mio difetto una virtù come dovremmo fare un po' tutte in realtà e poi insomma questo è il discorso quindi abbiamo preso una data per il 2018 quindi ad agosto faremo questa benedetta una pensata alla manica e nonostante i mesi mattornamenti di notti passate a mandare email associazioni a leggere regolamenti che sono pagine e pagine cioè non è che una pagina sola parlo pagina e pagine di regolamenti che riguardano cosa si può fare cosa non si può fare consigli che vengono dati per prepararsi per allenare insomma ho letto e studiato anche parti diciamo ho dovuto studiare anche delle parti di medicina per capire che tipo di esami vanno fatti perché poi veramente tutta questa documentazione è inglese per cui immaginatevi a leggere dei termini specifici medici per me che non sono medico anche se alcune cose le so dover cercare di capire che cavolo c'è scritto è stato veramente un calvario e tra l'altro non è ancora finito perché sono ancora alcune cose che sto ancora studiando però qual è della favola più o meno risolto il grosso della parte burocratica perché poi pure per quella parte lì bisogna mandare dei moduli più di un modulo compilati con film contro film scansioni test medici c'è di tutto non vi allungo il proto ma giusto per farvi capire che anche solo iscriversi a fare attraversata la manica uno quasi ci si scoraggia bisogna essere coraggiosi come ha detto Giga o Francesca visto che siamo Francesca perché non è una cosa semplice per cui insomma unendo la mia tenacia e comunque la fiducia che Andrea insomma che sia un grande sportivo mi ha accordato abbiamo insomma siamo riusciti a portare avanti questo progetto e poi a quel punto è stato una volta avuta la barca una volta avuta l'iscrizione una volta insomma sistemata questa parte qui si partiva con la pianificazione dell'allenamento anche qui c'è da dire che per quanto diciamo per quanto uno può avere un'idea di quello che mi ha fatto finché non la fai non ti rendi conto per cui chiaramente ragazzi l'impresa è tosta per cui è stato molto da organizzare per prepararsi chiaramente siccome un'impresa eccezionale richiede specie se deve essere fatta da una persona non può essere fatta in solitudine per cui richiede come tutte le cose una grande squadra alle spalle quindi Andrea si è praticamente preoccupato di trovare in base a quello che comunque ha di risorse un team di persone che potessero seguirlo al meglio quindi un preparatore atletico un preparatore tecnico un nutrizionista un medico un team diciamo multimediale che si occupa di gestire la comunicazione relativamente a questo evento facendo foto video diretta eccetera e chiaramente poi è la mia figura che è un preparatore mentale e un ipnologo insomma chi mi conosce lo sa scusate mi soffri anche un dato perché ho una lezione leggermente allergica credo da oggi allora tornando a noi quindi sostanzialmente cosa abbiamo fatto abbiamo fatto una pianificazione su una serie di interventi da fare per prepararlo chiaramente seguire le varie aree cioè l'area alimentare l'area tecnica l'area atletica l'area diciamo motivazionale mentale eccetera l'area multimediale eccetera quindi ognuno di noi ha dei compiti all'interno del team del progetto della manica che si occupa di seguire non si sa mai in che senso Marta non si sa mai quello che può succedere beh certo noi cerchiamo di quando si ha un progetto bisogna pianificare allora normalmente questo vale per me ma in generale è un buon modo di pianificare una cosa quando si ha un progetto bisogna praticamente utilizzare la stessa mentalità che utilizzano i militari quando i militari devono fare una missione perché una missione è un progetto tecnicamente per raggiungere un obiettivo valutano gli scenari peggiori possibili cioè loro cercano di valutare se devono fare questa cosa qual è il peggio che può succedere tipo che ne so che moriamo tutti oppure che che ne so la barca affonda eccetera eccetera infatti in realtà non ho pensato non abbiamo pensato al discorso se la barca affonda dobbiamo pensare alla soluzione a questo non sa mai come dice qualcuno cioè pensano a tutto quello di peggio che può succedere il peggio nel peggio quindi si preparano e si muovono per prevenire il peggio quindi cercando una soluzione diciamo che porta a rendere le cose diciamo difficili perché? perché se io riesco a risolvere le situazioni difficili e impossibili sono prevenuto cioè mi sono preparato per quelle poi risolvere quelle normali o semplici è una cazzata sostanzialmente scusa del termine diciamo che questo è un po' l'applicazione di un principio che insegna una figura che amo moltissimo Giorgio Nandone che è quella di diciamo di imparare come storcere le cose e vedere diciamo partendo da ciò che può andare male il peggio possibile io poi capisco come capovolgendolo che è un po' l'utilizzo della logico strategico militare cinese che Nardone insomma segue nei suoi tipi di intervento per cui immaginando tutto ciò può andare male o storto io riesco capovolgendo a creare delle soluzioni perché è una tecnica fondamentalmente di problem solving strategico insomma quello che Nardone insiede da anni ed è un genio nel farlo per cui chiaramente preparandoci al peggio possibile abbiamo iniziato a valutare che cosa poteva andare male che cosa potevamo fare che cosa andava sistemato poi una volta stabilito l'obiettivo poi abbiamo cercato di capire che cosa manca per poterlo realizzare per cui ad esempio il discorso del peso cioè che peso deve avere e anche lì ci sono varie valutazioni da fare ad esempio maggior massa corporea riduce la sensazione di freddo ma al tempo stesso può chiaramente appesantire la persona quindi in una traversata che una gara di resistenza più peso più fatica faccio perché devo muovere una massa maggiore per cui anche lì bisogna valutare di volta in volta in itinere quale aspetto bilanciare questo per farvi capire che insomma nulla va lasciato a caso e va valutato tutto per cui fondamentalmente abbiamo steso un po' una mappa di interventi per quanto riguarda la mia figura cioè ciò di cui io mi occupo all'interno di questo progetto questa grande impresa chiaramente come sapete per chi mi conosce insomma di persone che non sono ipnologo per cui un primo aspetto che porto in questo tipo di lavoro è l'utilizzo dell'ipnosi per diciamo l'esecuzione di una performance verrebbe da dire straordinaria perché alla fine lo è fare una attraversata tra manica una performance ordinare fuori dal comune in che modo l'ipnosi può aiutare in questo è molto facile per certi versi quando si va a lavorare su aspetti corpore muscolari quelli non sono gestiti dall'emisfero insomma che ha seguito le mie dirette sull'ipnosi un po' lo sa l'emisfero logico razionale sinistro gli aspetti corpore sono gestiti dall'emisfero destro dall'incoscio della persona perché fanno parte di tutte quelle funzioni in cui ho una componente di volontarietà perché quando nuoto comunque decido di muovere i miei muscoli però determinati aspetti come la respirazione la percezione del dolore la percezione della fatica il contatto col fluido la temperatura per dirne qualcuna o anche il senso di pesantezza di leggerezza o la contrazione muscolare sono tutte mediate dall'incoscio non c'è niente che sia più utile più potente per comunicare e dialogare con l'incoscio dell'ipnosi perché con l'ipnosi posso programmare passatemi termine anche se non è una programmazione informale però posso dialogando con l'incoscio andare a gestire determinati tipi di situazione per esempio cambiare l'effetto della percezione del dolore o della stanchezza o della capacità di regolarmi sull'aspetto termico quindi avere una maggior regolazione termica perché anche la percezione del caldo del freddo è gestita dall'incoscio tant'è vero che ci sono persone che le metti persone diverse le mette a contatto con l'acqua alla stessa temperatura qualcuno sente caldo qualcuno sta bene qualcuno sente freddo perché evidentemente l'acqua è sempre la stessa la temperatura è sempre quella ma perché delle persone percepiscono diversamente uno degli aspetti interessanti che l'ipnosi può modificare perché chiaramente blocca la parte blocca nel senso che addormenta rilassa la parte dell'emisfero sinistro che giudica valida per cui può cambiare il modo in cui percepisco le cose perché è l'emisfero sinistro che definisce come percepisco le cose in media quando io lo disabilito temporaneamente che non vuol dire che non funziona ma è temporaneamente rilassato è deciso dall'emisfero destro l'emisfero destro è completamente aperto se non è inibito dall'emisfero sinistro ad accettare le suggestioni e le suggestioni possono creare letteralmente la realtà di quella persona per cui questo è un primo aspetto su cui lavoriamo per cui io cosa ho fatto in preparazione in questi mesi ho utilizzato l'ipnosi per lavorare con Andrea mettendolo praticamente in uno stato diciamo alternativo cioè uno stato diverso rispetto a quello di coscienza in cui entrato in uno stato di trance profonda abbiamo fatto in modo di programmare determinati aspetti della traversata relativamente alla stanchezza alla gestione dell'energia che è un altro fattore importantissimo perché se utilizzo troppa energia più di quella che ho per fare la traversata poi mi scarico a metà traversata non me lo posso permettere per cui c'è tutta una serie di strumenti di situazioni che vengono lavorate attraverso l'ipnosi quindi io fondamentalmente ho fatto questo tipo di lavorazione quindi abbiamo lavorato per diciamo correggere e migliorare questi aspetti che è un po' il tipo di lavoro che si fa chiaramente l'ipnosi è uno strumento fortissimo uno strumento che permette di lavorare su stati di coscienza particolari perché chiaramente andando a cambiare il modo in cui noi percepiamo il mondo cambiamo anche il modo in cui noi ci rapportiamo al mondo e chiaramente eseguiamo una performance per cui se ci fa diciamo nel mondo sportivo c'è un termine che è stato studiato da miahini cex da oddio non riesco mai a pronunciarlo perché è un nome complicatissimo quando fosse ungherese se ricordo bene non ci provo neanche a pronunciarlo comunque era un ricercatore che ha parlato dello stato di flusso sostanzialmente è uno stato emotivo che si ha che possono vivere diciamo un po' tutti in realtà perché fa parte dell'essere umano in determinate condizioni quando c'è una sfida che è appunto sfidante ma non al di sopra delle possibilità della persona cioè di fronte a una sfida o qualcosa da fare possiamo avere tre tipi di reazione o questa è al di sotto del nostro livello di sfida quindi la reazione diciamo emotiva collegata è quella di noia cioè se ad esempio se mi dicono vai prendi prendi che ne so una pallina da tennis e fai e falla rimbalzare due volte sul terreno cioè lo faccio però mi scazzo scusate di nuovo il termine pure qui la parolaccia anche se non so neanche se una parolaccia scazzare però mi stanco perché fondamentalmente mi annoia cioè non c'è una sfida non mi impegno non mi porta neanche essere focalizzato a realizzarlo se invece mi dicessero prendi la pallina da tennis e lanciala che ne so in quella buca che sta a due metri che è piccolissima con un occhio chiuso e con una mano dietro la schiena eccetera quindi una cosa praticamente impossibile cioè la reazione emotiva a conseguenza sarebbe quella di ansia perché? perché il compito risulterebbe troppo difficile rispetto alla mia capacità di effettivamente di realizzarlo per cui in quel caso proverai frustrazione proverai ansia proverai scoraggiamento perché saprei già di base che di fronte a una richiesta di questo tipo non riuscirei a realizzarla quando invece dobbiamo fare un qualcosa che non è né al di sotto diciamo delle nostre competenze quindi non ci fa annoiare farlo né troppo al di sopra perché sarebbe una sfida troppo grande ma quindi è del regno delle nostre possibilità ma è sfidante perché ci porta un pochino diciamo all'esterno della nostra zona di comfort la zona di comfort è il nostro campo di abitudini cioè ciò che siamo abituati a fare per cui rappresenta poi i confini di quello che possiamo fare e di quello che riusciamo a fare appunto la zona di comfort quando facciamo qualcosa che è al di fuori della nostra zona di abitudini ci genera una sensazione di tensione non necessariamente negativa qualcuno direbbe stressoria ma è una reazione di un stress cioè di stress che fa star bene perché è appunto la sensazione di crescere di superare un confine più allarghiamo la nostra zona di comfort e più diciamo il nostro senso di appagamento la nostra crescita personale aumenta migliora perché abbiamo più possibilità che normalmente non avremo per cui ciao Teresa ben arrivata ciao a tutti gli altri Francesco Cristina eccetera dicevo di fronte a una sfida che sia impegnativa che sfidante ma non troppo questo ci permette di mobilitare e focalizzare tutte le nostre risorse interne per realizzare diciamo a questa impresa quindi in qualche modo la sensazione di sfida ci appaga ci fa metterci tutto noi stessi in questa questa impresa per cui attiva quello che appunto viene chiamato lo stato di flusso c'è una sensazione in cui per realizzare questa performance io sono talmente focalizzato su questo obiettivo che più la faccio più la porta avanti più in qualche modo mi carica mi motiva quindi si crea un meccanismo anche autogenerativo della motivazione per cui in qualche modo io ho un'altra azione irresistibile verso l'obiettivo perché più faccio un'azione verso di esso più allargo la mia zona di confort più sento che sto crescendo più questa cosa mi appaga più sento che sto superando un limite o qualcosa che mi sfida e più questa cosa mi porta a sentire una sensazione di benessere una sensazione di benessere talmente bella talmente grande che inizio a perdere il contatto col senso del tempo con la fame col sonno con la stanchezza tant'è vero che ci sono anche per esempio delle descrizioni meravigliose di questo stato per esempio dall'autobiografia di Pelé grandissimo calciatore dove Pelé mentre entrava in questo stato di flusso aveva la sensazione di potersi muovere con la leggerezza di volare in mezzo agli avversari col pallone come se non ci fosse avrebbe potuto farlo per tutto il campo per tutto il giorno perché non prova la stintezza chiaramente gli sportivi e i ricercatori scientifici che hanno fatto questo tipo di studi relativamente a questo stato lo chiamano appunto stato di flusso ma un ipnologo che ha un minimo di condizione di causa quindi che conosce la sua materia capisce che lo stato di flusso è in realtà uno stato di trans perché ha tutte le caratteristiche di uno stato di trans cioè la fissazione sull'obiettivo un buon ideismo un meccanismo autoalimentante perché fondamentalmente è autoipnosi e una sensazione di crescita di espansione per cui si ha un'attivazione diciamo di uno stato di ipercoscienza perché molti credono che l'ipnosi sia uno stato di ipocoscienza cioè di coscienza ridotta invece è uno stato di ipercoscienza dove si prende a utilizzare delle parti del cervello che normalmente sono meno utilizzate cioè rispetti immaginativi rispetti creativi dell'emisfero destro in realtà quando si entra in questo stato di iperattivazione mentale si utilizzano molte più risorse e lo sportivo diventa un tutt'uno con la performance per cui si auto mette in trance senza saperlo perché lui non lo chiama così ma perché non gli viene insegnato e realizza questo obiettivo è un po' quello che io faccio aiutando Andrea a entrare nel giusto stato quindi gli creo le condizioni mentali per entrare in questo stato attraverso l'iplosi e prepararsi mentalmente alla performance diciamo in questo lo faccio utilizzando varie tecniche di ipnosi lavorando in vari modi soprattutto in profondità per cui man mano dato che poi l'effetto dell'ipnosi è progressivo quindi è più viene utilizzata più si fa esperienza più diciamo lo stato di trance viene vissuto comunque qualcosa di ripetuto perché comunque è uno stato condizionante condizionante nel senso che appunto che si crea un meccanismo un servomeccanismo di condizionamento che è lo stesso appunto del condizionamento pavloniano per chi si interessa di comportamentismo per cui diciamo io mi abituo a entrare in trance quindi non ho più paura di questo stato particolare ma diventa familiare quindi scopro anche che è piacevole imparo a gestirlo imparo a rimanere in questo stato anche se sono cosciente per cui inizio ad avere accesso a delle risorse a cui normalmente io non ho accesso questo è un primo livello di lavoro che abbiamo fatto e che in realtà continuiamo a fare perché non è che abbiamo finito in più lavoro anche con altre tecniche per cui diciamo dello sport coaching o della preparazione mentale presportiva mental coaching presportiva sono vari nomi per indicare la stessa cosa secondo insomma del tipo di specialista che ne parla uno degli aspetti su cui si lavora prima di tutto il primo aspetto è l'obiettivo cioè se io non ho un obiettivo chiaro non posso questo vale per qualsiasi cosa non sono dello sport per qualsiasi tipo di performance se io non ho un obiettivo chiaro quindi chiaro cosa vuol dire un obiettivo specifico ben misurato realistico che ha una scadenza temporale che io posso in qualche modo realizzare che dipende da me quindi autonomo non condizionato diciamo colleghi coach lo chiamano un obiettivo smart dove smart appunto è un acronimo che diciamo comprende nelle singole lettere le caratteristiche di un dettaglio specifico misurabile eccetera eccetera realistico eccetera eccetera insomma quindi per tutto la definizione dell'obiettivo se no l'obiettivo chiaramente non c'è coaching perché il coaching è legato sempre all'obiettivo quindi nel momento in cui decido un obiettivo a quel punto l'obiettivo determina poi come tutti i bersagli determina il tipo di movimento che posso fare perché il bersaglio determina le armi le armi determinano il tipo di movimento che utilizzo per utilizzare quelle armi perché se ho un'arma gigantesca non posso muovermi agilmente per cui l'obiettivo è la prima cosa poi da lì ci costruisco tutto il resto poi a un certo punto si passa a tutta una serie di strumenti cioè quando lo sportivo ha una performance ma varia per tutti noi ci sono una serie di aspetti immacurati il primo aspetto ad esempio è quello che viene chiamato nel settore del coaching sportivo il self talk cioè la capacità o la facoltà di parlare a se stessi quanto è importante parlare a se stessi nel modo giusto chi si giudica chi si massacra col proprio dialogo interno interiore negativo lo sa cioè se io devo realizzare un qualcosa e continuo a dirmi che sono un incapace che sono un imbecille che non riesco a fare un cacchio che non merito di avere successo che non sono capace e continuo magari a ripetere dalla mia testa con le voci dei genitori dei parenti dei professori che io non realizzero mai un cavolo della vita eccetera eccetera quindi se ho un dialogo delegativo interno come lo chiamano in PNL questo dialogo mi crea delle limitazioni blocca per cui quando io magari devo fare un qualcosa mi blocco per cui devo fare un devo che ne so proporre al mio capo un aumento mi blocco perché dico tanto non me lo darà mai oppure se devo realizzare un progetto mi dico no tanto è inutile propongo questo progetto perché non lo apprezzeranno non lo accetteranno mai per cui come dicevano i saggi il più grande nemico è se stesso il più grande amico è se stesso chi si fa amico se stesso chiaramente ha la più grande risorsa perché perché non ha un conflitto cioè non ha una separazione della propria energia in più punti quindi non si frammenta intanto vedo una domanda sotto difficilissimo cambiare il proprio dialogo interiore mi dite in realtà il cambiare il proprio dialogo interiore è semplicissimo devi solo sapere come ecco perché esistono figure come la mia per cui perché ogni dialogo interiore ha delle caratteristiche di solito per esempio replica la voce di qualcun altro per cui si può provare ad esempio a cambiare quella voce cambiarla come si può fare lavorandoci un po' qualcuno di voi ha fatto una diretta con me sulla visualizzazione la visualizzazione cosa è gli esercizi per migliorarla ci permette di cambiare le nostre immagini interiori se possiamo cambiare le immagini interiori perché non possiamo cambiare un dialogo interiore anzi magari un giorno farò una diretta proprio per migliorare questi aspetti qui per cui diciamo che bisogna curare il proprio dialogo interiore bisogna dirsi delle cose motivanti incoraggianti delle cose che ci fanno star bene delle cose che ci guidino sostengono nel realizzare il nostro obiettivo delle cose che ci permettono di trattarci gentilmente perché massacrarci non porta niente continua a dire sbagli sempre non sei buono a nulla non aiuta quando io invece mi dico dai ce la puoi fare dai anche se è andata così hai fatto un'esperienza in più la prossima volta farei meglio quindi essere gentili con se stessi è importante permette alla fine di raggiungere degli obiettivi di un certo livello perché? perché a quel punto io non mi autoblocco come ho detto ed è importante è importantissimo per cui il self-talk è un aspetto fondamentale tanti sportivi magari sono fortissimi tecnicamente ma diciamo si parlano male tra l'altro si parlano male loro stessi tra l'altro questo spesso succede se qualcuno pratica sport fra i miei contatti che sta seguendo adesso questa cosa succede molto nel e vabbè poi magari la faremo comunque adesso passiamo avanti cioè molto spesso per chi pratica sport anche a livello agonistico un momento di solito peggiore in cui maltrattarsi è appunto durante una gara o la sera prima di una gara per cui ci si dice di tutto tipo ah non si è stato abbastanza preparato hai perso tempo non ti sei preparato non ti sei allenato abbastanza oppure magari ci ripetiamo tutte le cose che potrebbero andar male durante la gara durante la preparazione il test eccetera per cui anche quello è fondamentale quello che ci dice come ho detto conta molto un altro aspetto è la capacità di immaginare un risultato motivante se il mio obiettivo io non lo coltivo non lo nutro anche interiormente ma anche esteriormente con delle immagini con degli che hanno degli ancoraggi che mi motivino a portare avanti quell'obiettivo gli ancoraggi cosa sono? qualcosa che mi ricorda mi fa rimanere in mente l'obiettivo da raggiungere che può essere magari una foto di qualcuno che l'ha già vinto magari di un atleta che io amo e mi ispira a compiere quell'impresa per cui se io non ho delle immagini potenti dentro di me che alimento continuamente questo chiaramente va contro di me perché se invece inizio a immaginarmi di fallire di sbagliare di sbagliare col tiro di non superare quel paletto di non fare quel tornante che ne so di andaspare sott'acqua di non avere respiro insomma questo lo aiuta molto per cui curare l'aspetto delle immagini interiori quindi della visualizzazione è fondamentale fondamentale più immagini potenti ricche motivanti che mi coinvolgono emotivamente che hanno un significato per me e soprattutto più lavoro per creare magari delle immagini che sono proprio relativi a quello che devo fare e più l'effetto sarà potente perché insomma qualcuno che mi segue sa perché ne ho parlato anche durante le dirette l'incoscio o meglio il cervello non è in grado di distinguere ciò che ho immaginato da ciò che ho pensato per cui se io penso qualcosa di utile se io penso qualcosa che è funzionale anche se quella cosa non l'ho ancora fatta ma la penso curandola nel modo giusto quindi mi immagino magari di realizzarla di farla di farla bene io alleno il mio cervello a fare quella cosa ci sono degli studi molto interessanti anche con sportivi concreti che infortunati gravi diciamo avendo pure una gara invece di fare l'allenamento tecnico sportivo perché non potevano perché erano infortunati hanno fatto l'equivalente anche di ore di allenamento mentale e l'effetto è stato che poi sono andati in gara con pochissimo allenamento fisico e hanno stravinto perché l'allenamento mentale ha un grosso vantaggio se io immagino di tirare un canestro e quando tiro il canestro va dentro il cesto se io mi alleno mentalmente che ogni volta che tiro faccio canestro ragazzi la mente non è che sbaglia cioè nel senso se io mi alleno che zecco sempre i tiri cosa non possibile quando la faccio fisicamente ho allenato sono successi per cui la mia mente si abitua a calcolare e realizzare quel successo perché le immagini fanno una sorta di codice cioè vanno a inserire delle istruzioni dentro il cervello per cui con la visualizzazione vado a creare delle nuove istruzioni ed è questo quello che abbiamo fatto con la teoria inserendo delle istruzioni a livello di immagini potenti utili funzionali all'obiettivo da raggiungere e questa cosa pure è fondamentale poi è molto importante come rilassarsi perché per recuperare rapidamente l'energia anche su quello lavoriamo attraverso tecniche di meditazione in parte mutuate anche delle ipnosi poi è importante anche la gestione emotiva fondamentale posso essere un drago a livello tecnico posso essere ad esservi allenato tantissimo con le immagini interiori ma se al momento della gara appunto inizio a avere dubbi inizio a non sapere gestire le mie emozioni poi divento nervoso allora è fondamentale lavorare anche su questo per cui ci sono tutta una serie di aspetti che hanno un impatto diciamo enorme poi bisogna lavorare sulla gestione della sconfitta o meglio da quello che io imparo dalla sconfitta anche quello è un altro aspetto in cui un mental coach memora chiaramente la differenza perché qualcuno giustamente dice ma scusa ma queste cose non le può fare un terapeuta magari uno psicologo dello sport si in parte fondamentalmente alcune di queste cose lo fa anche uno psicologo dello sport per cui cosa si differenzia rispetto a un mental coach la differenza sta nel fatto che uno psicologo dello sport utilizza elementi strumenti mutuati chiaramente dal suo percorso come psicologo chiaramente non tanto per l'aspetto palotologico anche se ci possono anche essere perché magari la gestione della sconfitta potrebbe rientrare quasi in un aspetto patologico o meglio se la lezione fosse troppo versa da parte dello sportivo che non supera magari un blocco che gli si crea a livello emotivo per non aver superato una prova durante un allenamento ad esempio o altro o una qualifica ciò che differenzia la mia figura è che in questo caso io lavoro utilizzando delle tecniche anche di problem solving e degli strumenti che non sono tanto vanno a curare tanto l'aspetto psicologico diciamo della persona ma quanto degli strumenti pratici per risolvere problemi concreti che toccando varie aree utilizzano però degli ambiti legati alla mente per cui utilizzo per esempio un esempio proprio pratico 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 per farli comprendere durante l'allenamento durante la preparazione della traversata perché chiaramente per arrivare a fare la traversata della manica non è che si fa così cioè che prende una persona la butta a fare 10 ore di traversata a nuoto e la fa magari no l'allenamento è progressivo quindi quando si vuole realizzare l'obiettivo si spezzetta l'obiettivo in tanti piccoli sotto obiettivi di difficoltà appunto sempre crescendo proprio per il principio dello stato di flusso per cui portando questo stato di flusso e curandolo facendogli fare dei mici dei mini diciamo obiettivi chiamati praticamente le conciche obiettivi di performance e non obiettivi di risultato perché l'obiettivo di risultato è la traversata della manica ma l'obiettivo di performance sarebbe per esempio fare il primo test e nuotare un'ora fare il secondo test e nuotare due ore fare il quarto test e nuotare cinque ore esempio per cui creare una serie di obiettivi di performance di difficoltà progressiva che portano piano piano a calmare quel gap verso diciamo l'obiettivo in maniera tale che io quando mi butto in acqua se ho già fatto sette ore a nuoto riesco a farne tranquillamente nove perché comunque spostarmi dai sette ore a nove ore non è molto grande ma spostarmi da uno a dieci sì per cui praticamente in quel caso durante questo tipo di prove di test si ritirano e vengono fuori dei problemi ad esempio un problema che c'è stato nelle precedenti prove che abbiamo poi risolto con questa prova che abbiamo fatto questo weekend è stato il fatto che dopo un po' il contatto con l'acqua fredda tende a far contrarre i muscoli trapeziti di Andrea perché probabilmente il freddo per come lo sentiva lui tendeva a bloccargli data un'indagine che gli ho fatto io parlandoci tendeva a bloccargli la parte davanti del petto allora dato che comunque chi mi conosce sa che lavoro anche con le capacità sensitive per cui avendo più competenze e talenti metto diciamo in ballo questi strumenti mi è arrivato a livello sensitivo che in realtà lui la sensazione di oppressione al petto lo sentiva come un cazzotto per cui ho proprio visto un'immagine di un cazzotto che gli veniva dato nel petto per cui ricevendo un cazzotto nel petto quindi incassando uno contrae le spalle per imparare il colpo proprio fisiologico contraendo le spalle dove sono i muscoli trapezzi chiaramente il trapezio si contrae per cui dopo un po' che lui vuotava per una serie di diciamo dopo un'ora di nuoto sentiva una contrazione del trapezio che sostanzialmente diventando contratto iniziava a rendere sempre più faticosa la bracciata per cui le energie piano piano si bloccavano e si saurivano diciamo mentre lavoravo con lui mi è arrivato intuitivamente un esercizio che praticavo dallo yoga e che mi conosce insomma se abbiamo fatto anche per anni pratiche di yoga di meditazione di mantra mi è arrivato ad utilizzare un tipo di suono che si utilizza nella pratica yogica che è un suono di espansione che diciamo l'emissione del suono ha è fatto un po' così guardate perché questo suono tende a quando viene messo come lo fatture tende a aprire la parte davanti diciamo della gabbia toracica per cui c'è un'espansione infatti questo suono corrisponde tra l'altro al chakra del cuore che è un suono per aprire il chakra del cuore per cui sappiatelo se avete sentito la sensazione di oppressione al petto fate sentirete uno sblocco della zona respiratoria e del cuore insomma dei polmoni del petto per cui Andrea ha valutato quando io glielo ho proposto che durante la notata chiaramente i tempi anche per respirare sono pochi però cioè fare velocemente questo tipo di suono immaginate uno che nuota quindi muove la testa a destra a sinistra per prendere aria buttare aria eccetera eccetera riesce a fare questo suono e chiaramente questa cosa apre il trapezio per cui come prima soluzione è venuta fuori questa perché vi sto dicendo questo perché per farvi comprendere un po' come lavoro cioè utilizzando vari strumenti varie conoscenze in più settori perché comunque ho conoscenze in più settori esperienze lavorative e non in più settori la mia figura trova delle soluzioni che vanno a compensare dove c'è il gap dove c'è la problematica quindi chiaramente una volta che la problematica è risolta non si presenta più perché si è imparato ad avere uno strumento per gestirla per cui a quel punto chiaramente si passa al problema successivo però ogni soluzione di un problema ti porta una salita nel livello diciamo della performance e della scala delle difficoltà però che si crea è una difficoltà successiva perché poi c'è da risolvere il problema successivo per cui man mano cerchiamo di colmare almeno cerco di colmare per quanto mi compete le competenze che ho tutta una serie di problemi che si presentano tra l'altro ho fatto anche un esperimento di utilizzare delle tecniche di guarigione energetiche tra cui Reiki ma non solo con Andrea per cui per esempio prima della gara l'ho fatto rilassare gli ho fatto Reiki in maniera tale da riportare lo stato di equilibrio poi perché non conosce Reiki cerchi su Google perché adesso non metto a spiegare cos'è però gli ho fatto un trattamento di Reiki in maniera tale che si rilassasse ed è stato molto figo perché i ragazzi del team che erano con me sempre il preparatore il preparatore mi pare atletico atletico se ricordo bene e diciamo il responsabile per la parte multimediale sono rimasti abbastanza impressionati perché è successa una cosa e tanto è stata anche fotografata ma non filmata purtroppo che c'era Andrea che diceva in macchina ragazzi no io quando c'è un obiettivo sto carico sto adrenalinico anche adesso sto adrenalinico c'è un adrenalinico che devo andare a fare la prova e tutto è perché ho detto ok allora adesso vediamo un attimo di calmarlo perché era tutto eccitato non perché lo dovesse libero alto ma era giusto per prepararlo dato che sta per fare uno sforzo comunque notevole due ore più di ruotate in acqua fredda gli ho messo le mani in macchina sopra la testa gli ho trasmesso l'energia del reiki e finalmente dopo due tre minuti senza che dicessi una singola parola cioè gli ho solo detto quindi gli ho messo le mani sopra la testa Andrea è svenuto cioè proprio si è rilassato talmente tanto che si era addormentato per una decina di minuti o più i ragazzi sono rimasti cioè i ragazzi che non avevano esperienza di queste cose anche perché per esempio uno di loro fa di lavoro il personal trainer per cui magari è più tarato per approcci fisici non è abituato a lavorare con le energie come me che è un altro modo in cui si può lavorare con le persone al taccolo fisico e per cui è rimasto un po' scioccato perché hanno visto Andrea che da due minuti prima che era impereccitato imperaccelerato eccetera fu steso rilassato poi quando si è alzato ha detto cavolo però mi sono rilassato tantissimo per cui era come se si fosse fatto un buon sonno rigenerante si Martina fa ridere sta cosa però diciamo che funziona bene per cui lavorando con Reiki e lavorando con altri strumenti energetici che ho a disposizione mi sono occupato di trattare il corpo di Andrea per cui anche quello ha influito sulla prestazione muscolare per cui insomma la mia figura cosa fa? lavora con tutti questi strumenti per aiutare diciamo lo sportivo a superare via via i problemi che si presentano perché man mano che risolviamo delle problematiche ci sono meno blocchi meno situazioni che si presentano certo potrebbe anche esserci qualche variabile che non abbiamo previsto perché chiaramente essendo la prima volta che lo facciamo io non ho un'esperienza cioè quando avrò fatto questa prova questa attraversata la manica potrei già gli anni successivi iniziare a dire che alle persone perché ci sarà una documentazione audio video e iscritta che io ho fatto questa ho preparato questo atleta a fare questa prova per cui già da lì diventerò un esperto però una persona che comunque ha un certo tipo di preparazione perché ha un'esperienza diretta di averlo fatto che magari altri colleghi che magari sono bravissimi a fare diciamo un mental coaching sportivi normali per le gare però non hanno l'esperienza di fare un'esperienza con una prova sportiva estrema infatti per me questa è una cosa molto figa perché è un'esperienza di apprendimento gigantesca mi mette alla prova mi emoziona mi incuriosisce mi porta diciamo a scoprire degli ambiti nuovi infatti mi sono interessato in tutta una serie di cose per esempio anche le respirazioni per gestire il freddo perché comunque avendo fatto delle esperienze anche nella yoga stavo valutando anche c'è determinati di media di ispirazione per ridurre il dolore per regolare diciamo la termoregolazione dell'atleta perché chiaramente avendo le solo esperienze io avendo mutuato da pratiche come lo yoga ad esempio se lo posso mettere in ballo per cui il discorso è interessante cioè non è un caso che Andrea ha scelto me e non uno dei 50.000 sport coach mental coach per sportivi cazzi e palazzi anche più famosi di me che ci sono perché è un tipo di preparazione sì scusi un attimo Mauro dice Mr. Van Pilota Red Bull di Formula 1 Mauro allora grazie per la domanda non ti so rispondere per un motivo molto semplice perché come chi mi conosce per il sa io non seguo la televisione non leggo i giornali per cui fondamentalmente di ciò che sta succedendo a livello sportivo con in determinati ambiti per esempio quello d'automobilistico che non mi interessa diciamo perché diciamo tutto l'aspetto automobilistico è un aspetto che mi attira molto rispetto ad altri sport magari come invece il nuoto che sto imparando da mare ciclismo altri tipi di sport per cui se tu mi parli di di un pilota di Formula 1 cioè la Formula 1 non mi ha mai preso i miei familiari l'adorano ma io proprio l'ho visti per anni non mi hanno mai detto niente non mi emoziona come tipo di sport rispetto ad altri che invece per esempio il tennis non lo pratico però uno sport che io amo profondamente piace tantissimo per cui magari sarei più propenso seguire quello però Formula 1 non fa per me per cui non ti so rispondere probabilmente se mi informerò diciamo su questo tipo di di sportivo che tu mi citi magari ti darò un parere però ti dico l'ambito della Formula 1 non è proprio un ambito che conosco mi ha interesso per cui non so a chi ti riferisci o che tipo di problemi abbia anche perché in realtà non ho neanche molto tempo per seguire queste cose perché sempre chi mi conosce lo sa un giorno sto in una città d'Italia un giorno sto in un'altra per cui sono andato ancora a Senigallia a Milano poi vado a Ligure insomma ora tra un po' mi sposterò per andare mi pare a Trento per fare il sesto livello della scuola di parapsicologia di Stavichè insomma ogni tot tempo c'è uno spostamento per cui girando per l'Italia lavorando in più di un ambito con i miei clienti con l'ipnosi con lo sport eccetera non ho molto tempo per seguire la televisione giornali per me è tempo perso per cui non bisogna rispondere Claudio abbiamo parlato dell'ipnosi fino a un po' di tempo fa forse non si è arrivata un po' in ritardo magari poi rivediti la diretta dall'inizio e appunto ne ho parlato per cui come vi dicevo insomma la mia figura si occupa di trovare delle tecniche dei modi anche di probenzione strategico citando l'ordone che aiutino a risolvere tutte queste serie di problematiche perché una volta che sono disindescate tutte le problematiche e l'impresa viene un po' da sé infatti devo dire sono molto soddisfatto perché Andrea comunque sta facendo dei progressi diciamo mutevoli chiaramente non è che abbiamo risolto tutte le problematiche però piano piano in itinere stiamo costruendo questa impresa che è una cosa bellissima anche perché non so voi ma a me da un certo orgoglio sapere che sto collaborando sto realizzando un tipo di impresa che comunque riporterà diciamo un bel un bel diciamo valore in Italia perché comunque si tratta di battere le regole di italiano quindi far vedere che certi sono stati probabilmente da quello che ricordo degli sportivi esteri di altre nazioni che hanno fatto anche meno di nove ore e mezza attraversata dei mostri direi però diciamo che in ambito italiano vorrebbe dire se riusciamo a realizzare queste imprese io sono abbastanza certo che le facciamo vuol dire comunque riportare l'Italia diciamo a un alto livello del nuoto perché comunque un'impresa veramente da guinness per cui insomma è un ambito interessante e io mi occupo di far questo questo weekend cosa abbiamo fatto nell'ambito della preparazione per realizzare la manica c'era da fare una prova lunga quindi di due ore almeno in acque fredde e anche lì non pensate che sia così semplice fare una prova sull'acque fredde perché ci siamo accorti ad esempio di Tidere che fare una prova nel mare è diversa da fare una prova nel lago perché uno normalmente andrebbe nel lago che l'acqua è più fredda rispetto al mare e chiaramente per fare la prova ma in realtà fare le prove in piscina è diverso che fare il lago fare le prove al lago è diverso e fare il mare chiaramente a noi interessa fare una prova al mare perché il mare essendo diciamo l'elemento più simile a quello reale che avrà Andrea quando dovrà fare l'attraversata della manica dal 18 al 25 agosto una settimana di tempo è quello che ci permette di avere dei dati più diciamo affidabili rispetto alla risposta del fluido e l'effetto del fluido perché un conto è un acqua dolce è un conto è un acqua salata non pensate che l'effetto sia lo stesso perché la dispersione di calore ad esempio è diversa per cui anche lì sono variabili completamente diverse da di cui tener conto per cui per costruire questa impresa non è semplice nella maniera più assoluta intanto leggo qualche commento ok poi insomma leggo quello che mi è scritto Mauro intanto proseguo un attimo con il discorso stavo dicendo per cui anche lì non è semplice perché trovare un mare della temperatura adatta perché la manica abbiamo detto che ha una media più o meno ad agosto però ha una temperatura di circa 16 gradi 15 e mezzo 16 più o meno no chiaramente fare una pratica delle prove in un mare che è a 20 gradi non è la stessa cosa perché 4 gradi di differenza cambia il mondo ma anche in realtà anche 2 cambia il mondo 2 gradi in più o meno cambia per cui trovare una temperatura che sia più o meno quella della manica in un mare che sia più o meno agibile che sia più o meno vicino non è semplice ragazzi per cui ogni volta dobbiamo trovare un posto diverso dove fare la prova prove progressive sempre più difficili per prepararci diciamo a vedere come sarà la sua risposta del studio per cui c'è stata diciamo occasione di fare questa bella prova di 2 ore una prova impegnativa una prova importante che sembra poco però se deve fare 9 ore e mezzo di traversata già farne 2 è un buon indicatore di come stiamo andando e se non ci fosse riuscito sarebbe stato già quello un indicatore che bisogna sistemare altri aspetti per esempio la motivazione o la gestione dell'energia eccetera o anche problemi di natura muscolare come contrazioni eccetera per cui insomma abbiamo visto che diciamo data l'occasione abbiamo provato a fare o meglio l'ha fatta Andrea una traversata nuova da Vado Rigure all'isola di Bergeggi tra l'altro il posto in cui non ero mai stato per cui per me è stata l'occasione di vedere dei posti nuovi insomma io la Liguria l'ho vista poco in vita mia devo dire che come so è stupenda un po' stupendissimo per andare in vacanza anche per viverci insomma bello 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 per cui siamo andati a fare questa maxi impresa almeno per me di farci queste due ore di nuoto seguendolo in barca e anche lì in barca non ci andavo da una vita sono stato in vita mia in altre occasioni ma si parla diversi anni fa per cui anche lì un'altra cosa di cui abbiamo dovuto tenere conto ma è normale ognuno di noi magari facendo altre cose non è che è un esperto di questo ci siamo resi conto che siamo preoccupati tanto dell'alimentazione di Andrea di evidentemente aspetti di Andrea non abbiamo pensato a curare l'alimentazione nostra del team per cui anche lì ci sarà da cambiare alcuni aspetti per evitare ad esempio andando in barca di provare un senso di nausea perché a un certo punto a tutti quelli del team saliti ci è venuta la nausea poi qualcuno sta un po' più vicino a vomitare qualcuno tipo me meno per esempio io non ho avuto il senso di nausea però ho avuto fastidio allo stomaco come se dovessi vomitare ma non avevo da vomitare cioè non abbastanza vomitare però è veramente scocciante per cui bisogna anche vedere allora stavo pensando con gli altri ragazzi magari di fare un piano nutrizionale per esempio non perché sono nutrizionista ma ho fatto molti esperimenti con l'alimentazione chi mi conosce lo sa tipo un paio di anni fa ho fatto un esperimento con gli estratti centrifugati magari bevendo solo estratti liquidi soprattutto di fronte verdi per vedere ad esempio l'effetto quanto energia davano che tipo di luce indiettamentale davano eccetera probabilmente proveremo anche a fare qualche modifica magari consumare qualche estratto piuttosto che cibi soliti quando andiamo in barca proprio per evitare l'effetto nausea perché non è il massimo che il team che ti deve seguire poi va a cappare perché è la nausea per cui anche lì sono tutta una serie problematiche che noi come team che seguo Andrea sulla barca dovremmo risolvere per cui insomma niente rosa e flori è tanto ancora da vedere però è stato interessante perché comunque siamo partiti prestissimo dovevamo essere lì alle 8 perché poi alle 8 e un quarto avremmo iniziato la diretta per cui siamo svegliati presto intanto saluto quelli che mi hanno scritto che mi commentano tipo Barbara che si è collegata a Patrizia poi tra un po' leggo anche la domanda di Mauro per cui insomma ci siamo preparati svegliati presto quindi giorni prima ci siamo preparati quindi abbiamo lavorato con gli aspetti mentali almeno per quanto riguarda me visualizzazione eccetera lavoro anche con i suoni poi vi spiego in che modo e poi è stato il momento della verità per cui ok preparazione buona preparazione massima preparazione ben programmata ben fatta però a un certo punto ti puoi preparare e preparare poi ti buttai in acqua e ballà o meglio ruotà per cui poi lì è stato chiaramente la prova della cartina torna solo la prova del fuoco come lo andiamo chiamare cioè vedere se effettivamente la preparazione la pianificazione a più livelli poi concretamente ci dava una differenza ci dava un effetto e lì pure è stato interessante ad esempio ho fatto vedere che alcuni dei lavori che ho fatto con l'energia o altro hanno portato Andrea a non avere fastidi al trapezio per cui è stato molto interessante con i suoni appunto questo discorso della A che apre il petto permette di ridurre l'effetto cazzotto che faceva contrarre il muscolo trapezio per fare un'impresa di questo tipo adesso vi dico una cosa fondamentale perché vale anche ciao Anna perché vale anche diciamo per imprese non sportive cioè se si deve fare un'impresa che è comunque ardua o che magari ci scoccia eccetera è importante imparare e la singola cosa più importante da imparare da fare è mettere a tacere l'emisfero sinistro perché? perché essendo quello che valuta giudica svaluta dice che una cosa è possibile oppure no si lamenta eccetera per poter fare un'impresa prolungata come può essere una notata della manica è importante far disabilitare addormentare l'emisfero sinistro e occuparlo distrarlo fare un po' come dice uno dei benzidianti Roberto fare un gioco di prestigio cioè fare praticamente una distrazione dell'emisfero che l'emisfero distratto viene ingannato un po' come quello che fa un prestigiatore quando vi fa vedere la mano sinistra vi fa vedere magari muove la mano sinistra e maneggia le carte un fazzoletto quello che è poi magari muovendo la mano sinistra vi porta tutta l'attenzione sulla mano sinistra e non vi rendete conto di quello che sta facendo si è nascosto con la mano destra diciamo i prestigiatori sono maestri dell'arte dell'inganno il problem solving strategico è un po' questo cioè lavora utilizzando l'inganno funzionale per realizzare un obiettivo e io questa cosa l'ho praticamente proposto andrea all'ambito diciamo anche dell'ipnosi cioè per entrare in uno stato alternativo di coscienza bisogna creare un monoideismo che blocchi praticamente l'emisfero nazionale come abbiamo detto cioè l'emisfero sinistro allora nel momento in cui io riesco a disabilitare temporaneamente l'emisfero diciamo razionale tutto il carico del lavoro viene fatto dall'incoscio essendo un carico di lavoro fatto dall'incoscio l'incoscio può gestire anche in maniera quasi indefinita un compito portandolo avanti all'infinito pensando il fatto che ci fa respirare sempre non smette mai di farci respirare o battere il cuore se il nostro inconscio non facesse respirare o battere il cuore moriremmo ok per cui l'incoscio è in grado di portare avanti dei compiti per un tempo infinitamente lungo per cui quando si deve fare una performance ci si deve affidare all'incoscio non si può utilizzare l'emisfero sinistro perché l'emisfero sinistro mi sentirei sono stanco non c'è voglia di farlo bla 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 lamentere che questi mi bloccano allora il suggerimento che ho dato ad Andrea quando ero in acqua è di utilizzare un suono che poi abbiamo concordato utilizzato in un certo modo questo suono e questa parola in realtà perché è una parola che in generale è un suono fatto in un certo ritmo e con una certa cadenza induce un luce praticamente il subisfero sinistro ad essere occupato a ripetere quel suono ma nel momento in cui è occupato ad essere a ripetere quel suono si blocca per cui non diciamo non viene utilizzato per lamentarsi o dire c'ho freddo quanto manca e queste minchiate qui oppure sono stanco e a quel punto c'è un'attivazione del misfero destro per cui finché lui ripeteva quel suono che in realtà potrebbe essere una suggestione post-ipnotica magari un giorno ve le spiego finché lui ripeteva quel suono sarebbe stato in dirlo di andare autonomamente avanti diciamo indefinitivamente fino a che chiaramente le forze la temperatura eccetera la fame io lo consentono perché? perché in quel momento c'è un'attivazione delle sue risorse del misfero destro non sinistro e questa è la cosa più importante la stessa cosa quando dovete fare un compito lungo se la fate utilizzando la forza di volontà che fa parte del misfero sinistro dopo un po' si salisce che purtroppo è limitata o alimentata da cose tipo il sonno o altro che chiaramente nei giorni in cui avete dormito poco avete una volontà più debole perché appunto avete meno energia per cui farlo gestire dal misfero sinistro non è una buona scelta bisogna lavorare con il misfero destro e appunto nel caso di Andrea abbiamo lavorato anche con un suono e una parola per poter realizzare questo obiettivo per cui lui diciamo riusciva poteva andare avanti infatti anche dopo due ore aveva ancora energia per la fare la nuotata però a un certo punto come vedete nei video perché ci sono dei video delle dirette che abbiamo fatto questo weekend si ferma perché perché lì c'era un problema proprio di condizioni avverse cioè il tempo era pessimo infatti era scuro non c'era per niente sole era ventosissimo i venti erano forti talmente forti che andavano controcorrente e sostanzialmente questo ha modificato le maree che erano avverse soprattutto delle onde per cui si è trovato delle onde fortissime che andavano controcorrente e chiaramente se io vado controcorrente mi sforzo da morire e non ho per niente non mi muovo quasi per niente infatti a un certo punto lui per fare i 100 metri ci ha messo un sacco di tempo cioè non ce la faceva per cui era diventata quasi un'impresa impossibile mentre invece prima aveva fatto agevolmente prima che il vento fosse eccessivamente forte due chilometri aveva fatto due ore e più per cui un equivalente di 10 chilometri per cui capite questa cosa qua cioè è importante appunto lavorare con l'emisfero destro per realizzare questi obiettivi ok? è una cosa che non serve solo dello sport ma può servire anche quando devo apprendere un'abilità specifica che può essere suonare il pianoforte o cucinare o altro o magari fare una scrittura ispirata devo disabilitare l'emisfero sinistro lavorare col destro per avere delle indicazioni spirituali attraverso la scrittura questo è quindi siamo saliti in barca e mi sono ritrovato dato che avevo più esperienza anche di addirittura di chi cura il team multimediale della pagina di Andrea mi sono ritrovato a parlare e fare io la diretta perché ho molte come sapete dato che siete qua ho molta esperienza di dirette per cui riesco a in qualche modo tenere le persone incollate a seguire perché comunque so come coinvolgere e insomma questo è stato così quindi avete visto ho fatto una diretta commentando un po' quello che succedeva man mano e questa impresa tra l'altro poi si svilupperà nel tempo nel senso che faremo sempre più riprese video foto tra un po' arriverà la foto del team poi ci sarà il sito ufficiale dell'impresa che è chiaramente il sito di Andrea che è andreaoriana.it dove verranno dove sarà la documentazione dell'impresa quindi foto video eccetera ci saranno anche le schede dei partecipanti del team tra cui la mia breve cioè breve tra un po' insomma perché ci stiamo iniziando a lavorare dove ci sarà spiegato le cose che faccio e dove potete seguire per avere tutti gli aggiornamenti diciamo che un'impresa interessante in realtà questa cosa va avanti dall'anno scorso ma non ne ho parlato fino a che non fossi certo di aver avuto la barca di aver prenotato la barca essere stato iscritto diciamo ufficialmente la competizione aver avuto un po' degli scontri in maniera tale che insomma da partire che avendo tutto posto per partire poi l'ho annunciato per cui quest'anno sarà uno degli obiettivi più importanti per me nel 2018 non è l'unico ma è sicuramente un obiettivo molto importante che mi permette di alzare anche la mia sticella dato che è una cosa molto difficile più in là per cui di mettere alla prova molte delle conoscenze che ho con l'ipnosi con lo yoga con la meditazione con l'energia e altro insomma una cosa molto interessante perché come vi ho detto l'atleta si può allenare con vari strumenti l'importante è sapere come farlo amico del suo inconscio e su questo poi stiamo lavorando con Andrea ma per fare in modo che diventi autonomo diciamo per lavorare su di sé e continuare magari con degli allenamenti che io non posso fare perché magari non sono fisicamente a Milano perché è andrea a Milano e io sto a Pescara per cui io mi sposto per andare su e quando vado solo alleno ma poi deve essere in grado lui autonomamente di lavorare sulle sue cose non è che può avere la dipendenza da me che se non ci sto io non può fare le cose cioè deve arrivare l'autonomia per cui piano piano si arriva anche a quello intanto vi leggo la cosa che ha scritto poi Mauro allora ti spiego Max va sempre oltre il limite un gran pilota ma va sempre oltre il limite facendo poi danni a se stessa e agli altri secondo te avrebbe dovuto se è dovuto alla sua arroganza oppure spavalderia oppure aspetta oppure non mi apre accidenti ecco oppure spavalderia oppure è una specie di voglia di dimostrare di essere bravo perché sente inferiore Mauro potrebbe essere che lui lo fa perché sente inferiore potrebbe essere che sia arroganza spavalderia di solito un eccesso di una cosa tende a compensare una carenza da un'altra per cui probabilmente come dici tu però sarebbe da vedere nel caso specifico perché fa questo cioè bisognerebbe un po' studiare la storia e la preparazione del personaggio Claudia non sono un nutrizionista assolutamente però chi conosce il mio percorso personale per dieci anni ho fatto parte di vabbè insomma lo posso anche dire ho fatto parte di un punto macrobiotico e ho fatto tante esperienze col cibo col cibo naturale soprattutto per cui diverse cose le ho imparate in più al di là di quello che loro mi hanno insegnato che io ad oggi sulla base della mia esperienza personale successiva ti sconosco perché come ho detto con me la macrobiotica non ha funzionato granché anzi ho iniziato ad avere anche dei problemi di salute per quanto mi riguarda mentre facevo macrobiotica che prima non avevo come tra l'altro hanno detto anche altre persone che sono state intervistate sono stati articoli e testimonianze in video però parlo di me che inizialmente sembrava dare un miglioramento poi in realtà nel lungo periodo visto che non mi faceva stare così bene anzi da quando ho smesso di fare macrobiotica sto molto meglio fisicamente insomma chi mi conosce l'ha visto perché insomma sono sempre energico ho sempre molta energia sono attivissimo eccetera anche perché se non riuscire a fare tutte le cose che faccio per cui tornando al discorso grazie Patrizia per i complimenti per cui come dicevo ho fatto diverse esperienze con diciamo l'alimentazione cioè prima da quelle cose ho imparato da macrobiotica sull'alimentazione naturale ma mi sono fermato lì perché come sono io figurati se mi interesso mi appassiona l'argomento voglio scoprire e sperimentare sempre di più poi sono sperimentatore di natura per cui così come ho sperimentato con i numeri all'epoca ho imparato a fare delle letture numerologiche molto interessanti perché le ha fatte ha avuto delle testimonianze molto belle così ho sperimentato per il cibo per esempio per due anni fa per sembra tre mesi quattro mesi quanto è stato mi sono nutrito tutti i giorni a volte anche più volte al giorno di estratti non estratti scusate di centrifugati di foglie verdi scure tipo quindi foglie verdi scure se intendo cicoria bieta versa foglie della vanelli insalate cappuccio insomma non è verde scuro però ogni tanto ce lo mettevo ci metti rapa c'è tutte verdure a foglia verde scura che tra l'altro alcune di queste verdure hanno anche una piccola base proteica come la verza e il cavolo mi ricordo mai il cavolo romano il cavolo verde il cavolo verde non mi ricordo più però alcune di queste diciamo di queste verdure avevano anche una base proteica per cui ho fatto degli esperimenti per vedere come stavo sono stato bene per un po' di mesi poi quando ho sentito che il mio corpo non tollerava più quel tipo di o meglio non tollerava non aveva più benefici rispetto a altri aspetti che aveva o non tagliato però ogni tanto ho fatto un'esperienza l'ho fatto moltissimi moltissimi anni fa che mi conosce soprattutto i miei familiari sa feci un'esperienza con la dieta di Robert Young che era promossa all'epoca anche da Anthony Robbins su migliorato stato mentale fisico e finanziario un bel sellerone della crescita personale degli anni 80 e feci anche un periodo estensivo di quello come ho fatto un periodo senza zucchero bianco come ho fatto dei periodi vegetariani perché poi ci sono stati periodi anni fa che feci anche vegetariano non vegano insomma sperimenti ne ho fatti tanti ma proprio tanti 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 e tuttora ne faccio anche adesso l'alimentazione attuale è frutto di alcune esperienze che ho avuto per cui sono abbastanza vicino al crudismo ma non è completamente crudista poi in realtà varia perché tipo giorni fa ho fatto sono andato in un ristorante con i miei colleghi per cui anche lì diciamo che ero molto più rigido adesso cerco di ascoltarmi ma non è per dire che chiaramente poi oltre a quella base pratica ho una forte base teorica perché comunque ho studiato l'alimentazione comprando una marea di testi studiandomeri a fondo per cui ho studiato il metodo Gerson il metodo Cosmin ho studiato l'alimentazione acida alcalina il metodo del miracolo del piaccarino di Robert Young ho studiato il cable quello di Ciana Stati di cui ho diverso materiale video audio libri insomma ho studiato anche approfonditamente ho visto anche più volte ho studiato articoli ho studiato biochimica nutrizione ho studiato studiato ricerche su ricerche poi ho fatto prove esperimenti ho parlato con persone che già facevano degli esperimenti diciamo ho parlato con chi aveva fatto prima di me degli esperimenti per esempio mio amico Roberto è da diversi anni che si nutre con l'alimentazione fruttariana è cronista per cui mi ha dato degli spunti così come un'altra persona che conosco la mia amica che è stata Roberta che lei è stata tra l'altro una persona che mi ha spinto molto a fare un'esperienza con la frutta e col cronismo per cui come anni fa un'altra amica il mio fratello mi spinse a provare l'alimentazione naturale e macrobiotica insomma esperimenti ho fatti tanti magari mangiare solo pesce invece di carne o mangiare solo certi tipi di carne eppure no mangiare più pasta più riso più cereali che non siano riso per esempio miglio l'osso continuazione ne ho fatti gli esperimenti per cui chiaramente sulla base di queste cose ho iniziato a avere delle competenze perché comunque l'alimentazione è importante per tanto una serie di motivi cioè determinate cose permettono di avere determinati effetti non so che sto andando un po' fuori tema però in realtà no perché nella preparazione di uno sportivo è importante anche l'alimentazione fondamentale ci sono delle alimentazioni che favoriscono la performance sportiva come delle aumentazioni che la inibiscono stessa cosa oppure se devo fare un altro tipo di performance che può essere un lavoro per esempio sullo studio o per chi mi segue anche per l'aspetto parapsicologico ci sono degli alimenti che favoriscono le capacità intuitive per esempio gli estratti sono ottimi per migliorare proprio in tutto gli estratti di frutta e verdura mentre invece altri tipi di alimenti non sono adatti per sviluppare determinate caratteristiche per cui chiaramente se io sperimento e so le cose so adeguare la mia alimentazione al compito da portare avanti per cui chiaramente non sono un nutrizionista per cui non do nella maniera più assoluta delle diete non non è proprio un ambito che fa parte del mio lavoro infatti se vedete io non offro lavori legati alla nutrizione però esperienza ne ho ne ho anche tanta teoria ne ho ne ho anche tanta studi ne ho fatti tanti ho parlato con tante persone sono andato a convenzione dell'alimentazione ma tanti conveni ci vado tuttora cioè non è un settore che non seguo meno mi interessa meno quello dell'alimentazione ma è che l'ho abbandonato lo porto avanti perché cavolo devo mangiare tutti i giorni per cui come faccio a non studiarmelo chiaramente man mano che studio il livello di sofisticatezza mi aumenta per cui ho una maggior comprensione quando si parla di alimentazione ho una condizione di causa per cui poi ho la mia esperienza riguardo non so se ho risposto non è che poi non è una domanda però per chiarirci un po' Claudia rispetto al discorso della nutrizione ok per cui questo insomma come avete visto realizzare la traversata della manica è un qualcosa che richiede molto impegno tutta una serie di competenze io porto chiaramente le mie quindi la mia capacità di proprio insomma di competenze in più settori e si cerca di raggiungere questo obiettivo chiaramente l'ho parlato relativamente da poco perché volevo che questa cosa diciamo volevo annunciarle e parlarvele quando fosse diventata un po' più definitiva e fosse andata in ballo intanto vedo un commento di Mauro Valeriana ha proposto di prima di tutto bisogna vedere la persona in faccia io ti dico la valeriana è una pianta e rientra nel diciamo nell'erboristeria si nel sapere comune si può utilizzare la valeriana però io non sono un erborista mi interessa di altre cose dico allo stato attuale essendo una persona che utilizza i fiori di Bach per determinate tipi di disfunzioni o conflitti o valesseri psicologici o difetti emozionali psicologici più che psicologi emozionali io lavorerei con i fiori di Bach per cui magari sarebbe utile dargli se la persona è iperaccelerata magari sarebbe utile determinati tipi di fiori di Bach come Clematis o sto pensando quale altro fiore potrebbe essere utile per quietare un attimo una persona beh Clematis può andare bene intanto poi altri ci può pensare però chiaramente questa persona va vista in faccia per vedere le caratteristiche A che aspetto A che comportamento A perché anche quello ti dà indicazioni su che fiori somministrargli vabbè insomma questo è per dirvi un po' il discorso dello sport coach di stasera chiaramente ho parlato tantissimo piuttosto che dirvi se avevate domande però chiaramente vi raccontavo un po' come è andata per cui insomma l'esperienza di seguire Andrea sulla barca fare la radiocronaca della diretta e comunque vedere un po' come sta andando la preparazione perché è stato molto emozionante per vedere posti nuovi anche se è stato veramente poco in Liguria per vivere dal vivo l'esperienza di realizzare piano piano step by step un'impresa che diventerà secondo me un qualcosa da privato perché appunto vogliamo vincere con l'italiano io vi invito a seguire il blog di Andrea Oriara che è andreaoriara.it la sua pagina facebook Andrea Oriara official magari seguitela mettete un mi piace per proseguire e vedere un po' come sta andando questa cosa poi chiaramente le parlerò anche qui sul mio profilo come è normale che sia chiaramente poi quando ci saranno le dirette su questo argomento cioè sulla barca condividetela perché è veramente qualcosa che stiamo facendo anche per avvenire un po' l'Italia per renderla di nuovo grande anche nel vuoto non perché non abbia dei bravi diciamo sportivi dalla Pellegrina a Napolieri però chiaramente si tratterà di un altro ambito diverso rispetto a quelli che magari vediamo in televisione che però ha la sua importanza perché insomma è un'impresa non da poco per me insomma è bello fare questo tipo di esperienze perché io amo cercarmi nuove sfide e in questo io andrei siamo simili perché lui cerca sempre delle sfide più grandi e ha visto e diciamo abbiamo valutato che l'attraversata la manica è una sfida data la sua capacità non comune di concentrazione mentale di resistenza anche al freddo si sta insomma è adatta per lui e per me la sfida è appunto mettermi in una situazione che è abbastanza al di fuori delle mie normali situazioni di lavoro anche con gli atleti per cui è una sfida estrema appunto per cui c'è da lavorare in maniera più delicata del solito più approfondita e per me sarà un'occasione di crescere cioè alla fine dopo aver fatto questa traversata io uscirò che sarò molto più diciamo molto più un bagaglio di esperienza alle spalle molto più importante per riguardo lo sport coaching perché sì è vero che una persona che ho preparato ha vinto l'oro altri hanno vinto delle gare però insomma qui si tratta di un obiettivo di un livello molto più in alto anche più in alto di quello che forse ritengo di riuscire a realizzare però io ci metterò come sempre tutta la mia passione tutto il mio impegno che è un po' lo stesso che ho metto nelle dirette anzi qualcosa pure di più di quello che ho metto nelle dirette per realizzarlo perché è qualcosa in cui io tengo che mi appassiona che comunque mi sta piacendo molto lavorare con gli sportivi e voglio comunque espandere tra le varie attività che faccio tra l'altro se c'è qualcuno fra di voi che è sportivo e vuole essere seguito da me e chiaramente questo ha un costo però mi contatta e possiamo iniziare a pianificare un piano di preparazione mentale con anche strategica per realizzare un obiettivo io vi ringrazio anche perché fondamentalmente non ho altre cose da dire mando un saluto alzando la zampa che mi segue e se avete domande diciamo fatemi domande perché se non ci sono domande entro i prossimi 5-6 minuti io chiudo la diretta perché veramente vi ho detto di tutto di più chiaramente ho messo in particolari relativamente alla preparazione nutrizionale di Andrea la preparazione tecnico-atletica perché diciamo non è il mio ambito non sono un esperto di preparazione atletica si occuperanno gli altri ragazzi come Riccardo Matteo eccetera però diciamo che piano piano tutto ciò arriverà insomma a una conclusione positiva per cui mi fa piacere che ne ho parlato con voi per farvi un po' partecipi di questo grande obiettivo che ho nel 2018 e per farvi capire un po' come si prepara un atleta per fare questo tipo di imprese come io preparo un atleta anche per rendervi un po' conto del mio lavoro come preparatore mentale per sportivi perché normalmente come avete visto mi vedete sentire parlare di ipnosi mi sentite parlare di cartomanzia adesso ultimamente di numerologia perché ho fatto diverse letture con dei riscontri come avete potuto vedere sulla mia bacheca molto belli molto intensi di persone molto soddisfatte della londare numerologica o degli eventi che ho fatto dal vivo con l'induito della media litenza con la mia collega Luciana però effettivamente della preparazione mentale per sportivi non ve l'ho parlato chiaramente non vi ho parlato di che cosa è il coaching che magari avrei dovuto dirvelo però è una cosa che più o meno si inizia a comprendere cioè il coaching è un metodo che permette di andare oltre la realizzazione degli obiettivi è una relazione diciamo di aiuto ma anche se non è proprio un aiuto ma una relazione compartecipativa in cui il coach crea un sostegno uno spazio per la persona per realizzare un suo obiettivo e lo aiuta a realizzare un piano e poi a stendere un piano di azione per realizzare l'obiettivo l'obiettivo cioè un qualcosa che ci porta da dove siamo lo stato attuare o lo stato desiderato che appunto è l'obiettivo un miglioramento della nostra situazione il coach ti assiste ti accompagna non ti dà ordini non ha un approccio direttivo ma un approccio diciamo empatico collaborativo assistenziale nel senso che ti sostiene ti motiva però non pensate ai motivatori che battono le mani mi fanno danzare no il tipo di motivazione è un po' diverso ti aiuta a trovare dentro di te le tue vere motivazioni per fare una cosa un po' come quando ho chiesto a Andrea all'inizio Andrea ma ci si può morire sei sicuro che lo vuoi fare quando lui era certo visto l'assoluta certezza dei suoi off ho capito che si ha preso un impegno importante con se stesso per realizzarlo tanto vedo commenti saluto Elena saluto Mauro grazie Mauro però lo studio sulla formula 1 e la psicologia del pilota dovresti farlo secondo me avresti successo sì magari ma non me ne interesserò però chiaramente non è che posso far tutto ci sono centinaia di sport sarebbe interessante magari dopo questa impresa vedere di seguire qualche pilota di formula 1 proprio adesso stiamo lavorando con altre cose ciclismo e nuoto poi chiaramente io sono uno posso seguire un tot progetti non ne posso seguire mille già ne seguo tante insomma mi conosci sa che le faccio anche troppe ultimamente sto dormendo pochissimo per poter far tutto però sono soddisfatto perché la mia vita mi piace le sfide mi piacciono per cui bene insomma sono molto soddisfatto di questo facendo vabbè ci sono domande visto vedo che nessuno ha fatto domande se non ho dei commenti positivi da parte di Mauro che saluto perché lo conosco di persone abbraccio e gli do un abbraccio forte avete domande ragazzi perché io chiuderei la diretta mi è interessato il discorso spero di sì anche se chiaramente è un po' diverso negli ambiti che ho trattato finora però è giusto che in qualche modo copra questo aspetto che fa parte della mia professionalità e di esperienza e anche perché volevo coinvolgervi infatti fate il tifo per noi supportate me e Andrea dalla realizzazione di questo obiettivo anche tutti gli altri ragazzi del team come Gabriele Riccardo Matteo nutrizionista adesso mi spugge il nome insomma tutti quelli che stanno portando avanti questo tipo di progetto se c'è qualcuno che vuole essere seguito come sportivo mi contatta ma in realtà ciò che vi ho detto non si applica solo allo sport si può utilizzare nel lavoro nella vita ognuno di noi ha la propria attraversata della manica per qualcuno la propria attraversata della manica vuol dire trovare un lavoro e avere uno stipendio fisso per qualcun altro magari la attraversata della manica è pubblicare quel cacchio di libro che ho dentro il cuore ma non ho mai la forza di realizzare per qualcun altro la manica perché la manica è la tua impresa impossibile la tua impresa in cui richiede una preparazione per la definizione costuosa per qualcun altro la manica è la gestione dei figli per qualcun altro la manica è comprendere quale cavolo è il motivo per cui sta qui sulla terra ognuno di noi la sua manica ognuno di noi la sua sfida è impossibile io le mie voi avete le vostre e questo un coach vi può aiutare perché vi aiuta a rendere possibile l'impossibile attraverso tutte le serie strumenti come un piano di azione un'analisi delle risorse e degli ostacoli allenando le vostre potenzialità e talenti coltivandole creandovi lo spazio di confronto per avere un punto di vista distaccato dalle cose che vi può aiutare a realizzare step by step gli obiettivi cioè passo dopo passo a questo serve la mia figura per cui ognuno di noi pensi al tipo di manica che deve trovare che deve risolvere e magari se vuole può contattarmi parlare magari possiamo fare alcune sessioni di coaching in cui aiuto a fare la superazione attraversata della manica va bene ragazzi vedo che non ci sono domande grazie a Martina e Mauro per i commenti e saluto tutti quelli che mi hanno seguito stasera e vedo che c'è gente che si iscrive che sta entrando adesso nella diretta ma purtroppo si è fatta una certa la diretta ormai è giunta agli sgoccioli io dirò vi ringrazio vi chiedo cortesemente di condividere questo video condividetelo alla fine quando ci sarà la registrazione del video che verrà infatti salvato e condiviso sulla mia bacheca vi chiedo di condividere il mio video grazie a Martina che l'ha condiviso condividetelo il più possibile perché aiutate a far conoscere il mio lavoro a rendervi possibile fare le dirette perché se tramite queste dirette come succede ho delle richieste in più di lavoro posso continuare appunto a lavorare in quest'ambito e poi fare formazione come sto facendo stasera anche gratuita per chi mi vuole seguire per cui se più persone conoscono il mio lavoro ho più possibilità di continuare a farlo perché più persone possono aver bisogno di quello che io chiaramente ho imparato e utilizzo tutti i giorni per lavoro che sia lettura numerologica riprosi la cartomanzia le tecniche di preparazione sportiva il massaggio perché sono anche massaggiatore fotografia faccio diverse cose scrivere o fare da formazione da allenatore quindi se avete amici sportivi fategli sapere insomma c'è questa possibilità di lavorare con me dato che sto seguendo un atleta di altissimo livello invito a cercare Adriano su google e vedere cosa ha fatto quando era un atleto sportivo insomma era un grandissimo nuotatore agonistico e adesso stiamo diciamo preparando questa gara non tanto agonistica con altre persone ma di agonistica con se stessi perché è una gara contro se stessi chi vince il proprio nemico ulteriore vince la più grande delle sfide perché a quel punto non ha più paura di niente perché ha fatto pace con se stesso e la sensazione di pace e di serenità che si ha quando tra virgolette si supera se stessa e si vince se stessi niente te la può dare e lo so bene perché io ci ho dovuto lottare tanto e adesso grazie a questa lotta che piano piano ho superato del tutto sto portando avanti i miei talenti li sto coltivando va bene insomma un discorso interessante ragazzi io vi saluto vi ringrazio tanto per essere stati qui vi do appuntamento alla prossima diretta che potrebbe essere domani vediamo in base ai miei impegni che probabilmente come avevo già annunciato sarà sull'intuito la medialità anzi più sull'intuito che sull'medialità perché sarebbe bello se la facesse Luciana però ancora non le forze si sta ancora preparando da questo punto di vista perché lei è veramente specializzata in questo io vi auguro una buona notte vi invito a seguire il mio sito gimmifascina.it che è attualmente in costruzione sempre in costruzione e la mia pagina di facebook gimmifascina ipnologo seguitela mettete mi piace invitate gli amici a seguire questa pagina il più possibile per favore il mio canale di youtube che è sempre gimmifascina quindi iscrivetevi al canale per seguire video ma non ve li faccio e niente buonanotte a tutti io sono gimmifascina ipnologo mental coach preparatore spentale per sportivi cartomante parapsicologo esperto in visione di pack e anche una persona che utilizza tecniche di terapia energetiche adesso dovevo usare forse termioterapia per lavorare con le persone vi auguro una buonissima notte un caloroso ciao buonanotte a tutti e grazie per essere stati qui e alla prossima e aspetto le vostre domande o commenti su questa diretta e magari qualche proposta per le prossime dirette va bene buonanotte